Seneca per Maria Zambrano, come la chiamiamo noi italiani. Lei è spagnola, una filosofa spagnola, e quindi la si pronuncia in un modo diverso. Non so se voi sapete, lo spagnolo più o meno dovrebbe essere qualcosa tipo Sambrano. Comunque, Seneca, il fallimento di un intellettuale di fronte al potere. Qui avete due immagini di Maria Zambrano da giovane e da anziana. E' stata una grandissima pensatrice, dicevamo, filosofa di grandissimo rilievo. Ebbene, lei si è chiesta questa cosa. Seneca è l'ultimo dei grandi sapienti del passato, dei grandi stoici filosofi del passato, o è il primo degli intellettuali compromessi col potere? A dispetto dell'immagine che Seneca stesso è riuscito a dare della sua morte, testimoniata dai dipinti dei grandi artisti, come questo di Rubens che vediamo come sfondo, questa slide, o gli altri che vedremo, fino a David, che l'hanno raffigurata, questa morte, come un esempio di estrema libertà dell'antico sapiente stoico di fronte all'avversità della sorte, oppure, ecco, per Maria Zambrano, quindi chiamiamola così all'italiana, Maria Zambrano, essa invece è la testimonianza del fallimento del primo intellettuale moderno che ha tentato, fin quasi all'ultimo, di conciliare il rigore della sua filosofia morale con i meccanismi spesso compromettenti del potere. Cioè, si intende questo. Fino a 62 Seneca è rimasto a fianco a Nerone, anche quando lui aveva già commesso tantissimi delitti, come quello della madre e tantissime cose assolutamente immorali. Qui vediamo un gruppo statuario di Seneca con Nerone. E' un'altra foto di Maria Zambrano da giovane. Ecco, un po' banalizzando, io potrei dire troppo facile morire da gran filosofo per Seneca quando ha vissuto da, la sua esistenza, quando è vissuto, insomma, da ricco sfondato, chiudendo un occhio per anni e anni su omicidi e delitti del principe pur di godere ancora del suo favore. Quindi, diciamo, porto alle estreme conseguenze quello che ha scritto Maria Zambrano dicendo che potrebbe essere letta questa morte di Seneca come qualcosa di estremamente ipocrita, no? Rispetto a quello che lui ha fatto in vita. effettivamente Seneca era uno degli uomini più ricchi e influenti del suo tempo e se la godeva, insomma, perché era davvero potentissimo. Dicevamo, era a fianco di Nerone, no? A braccetto con Nerone. E allora leggiamo il testo, appunto, di questa filosofa, di questa Maria Zambrano. Mentre leggiamo il testo, nello stesso tempo guardiamo queste immagini che sono i dipinti dei grandi pittori che hanno raffigurato la morte di Seneca, la morte del grande filosofo che, appunto, va incontro a questa morte senza nessuna paura perché segue la sua filosofia che lo rende sereno anche in quella situazione così tragica. Ma ripeto, questo è quello che abbiamo studiato finora ma è fortemente messo in discussione da Maria Zambrano e leggiamo perché. Seneca è il patrono dell'intellettuale che, conservando una traccia dell'antica fede nella ragione della speranza riposta negli albori della ragione greca aspiri a un posto al tavolo del potere. Ecco, diciamo, la critica della Zambrano. Seneca, quindi, è uno che vuole comunque stare nella stanza dei bottoni. Seneca può essere il patrono qui nel senso di un anticipatore l'antenato, il primo, no? Di coloro che non credono nella ragione pura e neppure nella vita contemplativa. Di coloro che non volendo voltare le spalle alla ragione vogliono partecipare alla vita attiva, alla storia ma per queste stesse persone potrebbe servire anche da avvertimento. La morte di Seneca non fu, come per Socrate, l'inizio delle sue speranze, il compimento della sua fede bensì un tragico fallimento il fallimento dell'intellettuale di fronte al potere. Come vedete siamo arrivati proprio al nucleo della critica, insomma, del pensiero di Maria Zambrano. Forse lui aveva davvero un progetto buono, no? Il progetto, dicevamo, di rendere clemente l'imperatore, il principe, eccetera. Ma non è riuscito a realizzare questo progetto e alla fine questo suicidio non è altro che il riconoscimento di aver fallito, di non aver raggiunto lo scopo, l'obiettivo che si era posto. Ecco, questo invece è un pittore, diciamo così, barocco, che ha dipinto più e più volte la morte di Seneca. Eppure Seneca, sapendosi in un certo senso consapevole, morì con eleganza, senza pianti né lamentere, ritardò il più possibile la sua morte, ma era sicuro che sarebbe arrivata e si fece trovare già preparato. Dilattò al massimo lo spazio della sua vita e altrettanto sfruttò i suoi piaceri. Evitò il martirio, perché solo la ragione pura e la fede pura ammettono dei martiri. Quindi, dice Maria Zambrano implicitamente, come se dicesse, è inutile che mi presentiate Seneca come un martire. Assolutamente non lo è stato. Plotino, ecco, Plotino invece è un filosofo del III secolo d.C., massimo rappresentante del neoplatonismo. Plotino, morto nel suo letto, spentosi dolcemente, ha le sembianze del martire della filosofia, in nome della purezza della sua schiavitù, ha una ragione che non è più di questo mondo. Quindi abbiamo visto che Maria Zambrano esalta l'esempio di Socrate e quello di Plotino e invece ridimensiona, insomma, questo grande modello della morte stoica di Seneca. Seneca, morto per ordine del potere, sacrificato dal Signore che aveva servito, non può essere un martire. La sua morte fu un incerto del mestiere. Fu colpito dalle corna del potere, che la sua astuzia avvocatesca non era riuscito ad evitare. Egli se ne rese conto e per questo lasciò di sé nell'ultimo istante di vita un'immagine semplice, una figura di elegante e serena bellezza. E' appunto, dicevamo, la figura che è stata raffigurata, poi rappresentata da variati artisti, come il famosissimo pittore Jacques-Louis David, che, come vedete in questo dipinto, che si trova a Parigi, nel Petit Palais, piccolo palazzo, raffigura la morte di Seneca. Morì illuminato dalle luci del mondo, come un torero. Ecco, tra l'altro, è interessante che David abbia raffigurato questa morte, perché è un pittore che... Forse l'avete fatto, storia dell'arte, non so. La morte di D'Antonio. Eh? L'avete fatto? Eh? Di Marat, la morte di Marat. Scusate, sì, sì. La morte di Marat, di Jacques-Louis David, è un dipinto famoso. Scusate la mia ignoranza, ma è un dipinto importantissimo, è che abbia raffigurato anche la morte di Seneca, no? Vuol dire implicitamente che è un'esaltazione della grande libertà del filosofo, cosa che mette fortemente in crisi e in discussione Maria Zambrano. Morì illuminato dalle luci del mondo, come un torero, come un divo, come chiunque abbia vissuto per il mondo, per il mondo. E fu un saggio, perché pur essendo così immerso nella vita, non fu sorpreso dalla propria morte, e seppe viverla, rappresentarla. Seneca è una maschera di teatro, del gran teatro del mondo, ed è il più grande teatro del mondo quale è stato quello spagnolo. Visse la sua morte, come Plotino morì la sua vita. Ecco, è singolare che dica questa cosa una filosofa che è spagnola anche lei, no? Quindi ricordatevi che infatti Seneca è spagnolo di Cordova e sottolinea Maria Zambrano questo aspetto della teatralità, no? Sapete che, per esempio, nel periodo del barocco, no? quando la Spagna era praticamente un impero, si può dire, alla guida del mondo e anche dell'Italia, si era proprio realizzato questa idea dell'arte come qualcosa di appariscente, no? E il teatro era, come abbiamo studiato l'anno scorso, era il genere più in voga all'epoca. maschera di teatro, figura di tragedia, della tragedia del sapere introdotto nel mondo, del sapiente che non si tira indietro per mancanza di fede nella vita della ragione e che per questo vuole trovare la ragione nella vita, nella storia. La tragedia dell'intellettuale di oggi che vuole, nel migliore dei casi, sottomettere la storia presente alla mezza ragione, che vuole assicurare la ragione e la sua mezza vita tra il potere e il frastruono del mondo per mancanza di fede nella ragione intera, perché la ragione intera come la verità intera non sono più di questo mondo. Diciamo che la riflessione su Seneca si intreccia qui nelle parole di Maria Zambrano con l'amarezza per il tempo presente, un tempo in cui sembra più non albergare la verità, lo dice. la verità non è più di questo mondo. E così comincia. Seneca è il caso più evidente, la fine del sapiente, l'inizio dell'intellettuale. Intellettuale si intende intellettuale organico, se voi non avete fatto ancora Gramsci, però questo concetto verrà approfondito dai marxisti. Spesso gli intellettuali sono organici al potere e il primo di questi intellettuali organici al potere è stato proprio lui. Seneca, maestro andaluzio, mi ha detto che è nato a Cordoba, avvocato, fu l'ultimo sapiente antico, il primo intellettuale moderno, sempre alle prese col potere, sempre sul punto di tradirsi. Ma se è il sapiente o l'intellettuale è anche qualcosa di più, è anche il sapiente guaritore, il sapiente che ha saputo guardare dalla sua infinita desolazione l'uomo più bisognoso e abbandonato. È l'uomo in età matura, è ogni uomo in età davvero matura, e anche un padre. Attenzione però, in queste ultime parole di Maria Zambrano abbiamo una specie di colpo di coda in cui la filosofa insomma riconosce che Seneca è comunque stato un sapiente che ha saputo guardare dalla sua infinita desolazione l'uomo più bisognoso e abbandonato. E questo ci serve come introduzione alla lezione che adesso stiamo per fare. Cioè, alla traduzione, lettura, commento, traduzione di una lettera di Seneca, Gli schiavi sono uomini, lettera numero 47, che è quella nella quale dimostra di, comunque, se è stato come è stato effettivamente, un ricco aristocratico, eccetera, bisogna anche ammettere che è stato capace di guardare dall'alto della sua posizione sociale, guardare all'uomo più bisognoso e abbandonato e riconoscere che era un uomo pari a lui. E questa quindi è una valorizzazione. Abbiamo parlato un po' male di Seneca, se vogliamo, in questa lezione, ma alla fine dobbiamo rivalutarlo, almeno per le cose che ha scritto. Non sempre i filosofi sono coerenti tra quello che scrivono e quello che dicono, però certe volte scrivono delle cose che sono delle intuizioni e delle rivelazioni di grande umanità, come quelle che ha scritto Seneca.